Otranto e Cellino San Marco dicono sia la proposta di referendum sull'istituzione della regione Salento. Con due votazioni trasversali i rispettivi consigli comunali hanno dato l'ok all'ordine del giorno proposto dal comitato promotore del referendum. A Otranto la proposta è passata con 10 voti favorevoli e 4 astenuti. A presentarla in consiglio il capo dell'opposizione, ex sindaco e consigliere provinciale Francesco Bruni. È un voto sicuramente non superficiale perché si è fatta una discussione molto attenta e approfondita valutando tutte le ragioni che possono essere dietro a questo discorso sia di ordine storico che di ordine costituzionale che di indole squisitamente economica che sono tutte comunque importanti, anche quelle sociali e possono determinare poi il giudizio anche di coloro che andranno a votare per il referendum. Soddisfatto del voto anche il sindaco Luciano Cariddi, l'importante addetto è stato decidere di dare la parola ai cittadini. Diciamo ha deciso di dare la parola ai cittadini anche se per come è elaborato l'articolo 132 della Costituzione in qualche modo ci ha portati anche a dare un assenso a quella che è l'istanza Regione Salento ma in effetti almeno la mia posizione personale è quella di forte scetticismo su questo argomento o seri dubbi che questo possa realizzarsi e che possa portare effettivamente utilità poi al nostro territorio. Però per amor di democrazia è giusto sentire i cittadini e lo facciamo volentieri. Nelle stesse ore si esprimeva anche il Consiglio Comunale di Cellino San Marco dove la richiesta di convocazione del referendum è passata con 12 voti favorevoli, due astenuti ed un solo contrario. Siamo favorevoli all'induzione di questo meccanismo, il principale meccanismo di democrazia esistente nella Repubblica Italiana. Daremo spazio quindi alla volontà dei cittadini di Cellino San Marco, delle province di Brindisi, di Lecce e di Tanato per realizzare questa meravigliosa, a tiro personale dico, meravigliosa idea. Anche perché non capisco come mai, ripeto questo concetto, il 70% dei fondi che la Regione Puglia gestisce vengono destinati alla città di Bari. Intanto un appello ai consigli comunali giunge da parte del consigliere regionale dell'Udcio Prepio Curto e dal parlamentare europeo del PDL Raffaele Baldassarre, entrambi d'accordo sulla necessità di votare per la richiesta del referendum. Ritengo ancora più condivisibile e praticabile la tesi secondo cui tutti i consigli comunali dovrebbero votare all'unanimità a favore dell'istituzione del referendum. Oggi lo strumento del referendum rimane una delle poche, forse l'unica arma in mano che sia rimasta in mano all'elettore e al cittadino per poter esprimere il proprio parere. Impedire al cittadino l'utilizzo di questo altissimo strumento di democrazia, a mio avviso, è un'aberrazione intellettuale. Credo che sia un dibattito estremamente opportuno. L'idea di discutere su questa opportunità, non nel senso solo tecnico o istituzionale, ma anche sulle prospettive, le vocazioni, le occasioni comuni di sviluppo, i destini comuni di queste tre province, sia un'occasione di crescita complessiva del territorio e alla quale, a mio avviso, non può mancare poi un processo di autodeterminazione. Credo che sarebbe anche certamente interessante dare la possibilità ai cittadini di dare il loro indirizzo attraverso la consultazione, sia attraverso i consigli, sia attraverso la consultazione referendaria, che è uno strumento di grande democrazia.